Si chiamerà Ponte Genova, San Giorgio sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30, lo ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto Marco Bucci. Questa mattina in un'intervista al Digicom24 il sindaco di Genova aveva raccontato il ponte d'acciaio, ci sono 20.000 tonnellate d'acciaio, una quantità enorme lavorata negli stabilimenti e fincantieri come il San Giorgio e hanno fatto veramente un bel lavoro. Questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature creati da Salini in pregiro. Le prove di carico sono iniziate domenica, potrebbero concludersi anche prima dei sei giorni previsti. All'inaugurazione è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica Mattarelli.